raga sull'altro episodio ho fatto vedere quello che avevo messo dentro e ora facciamo una mystery box eh si ho visto il telefono ora ce ne sono due qua dentro c'è il telefono vero vabbè questo qui è il mio telefono vecchio ovviamente eh questo qui c'è il telefono qua dentro ora mettiamo le stesse cose che c'erano però questo non lo posso mettere mettiamo questo poi mettiamo la pelle metterò questa cosa della Turchia a questo cerchiatto ok poi mettiamo l'appello così poi mettiamo un'altra cosa ci vediamo nella parte 2 e poi mettiamo il telefono e poi mettiamo il telefono